Creare delle occasioni aprende una strada verso l'inclusione. Con questo concetto di fondo nasce il progetto Scuola di Platea Melting Pot, un'idea nata da Comune di Pesaro, AMAT e Cooperativa Sociale Labirinto per offrire ai cittadini immigrati la conoscenza attraverso la partecipazione di alcuni eventi culturali della città. Un'iniziativa che è stata ufficialmente presentata questa mattina, ma che si è già insediata da oltre un anno, con la Platea del Teatro Sperimentale di Pesaro che diventa un simbolo di integrazione tra i cittadini che frequentano abitudinalmente gli spazi culturali e cittadini stranieri che invece non hanno mai assistito a spettacoli dal vivo. Un modo leggero ma efficace di far vivere un'esperienza mistica a chi solitamente, oltre a casa e lavoro, non conosce cosa lo circonda. Cerchiamo di non rendere gli eventi culturali destinati ai migranti come delle occasioni straordinarie, ma cerchiamo di inserirci nella rete culturale ordinaria, facendo in modo che gli spettacoli di teatro, prosa e danza di AMAT, che AMAT inserisce nella stagione per il comune di Pesaro, siano accessibili alle persone migranti. Quindi sulla base della proposta di spettacoli abbiamo selezionato alcuni di questi che propongono linguaggi diversi, dal musical alla danza contemporanea, e i ragazzi, i beneficiari, vengono invitati alla visione, quindi sostenendo loro il costo del biglietto, che è posizionato sui 3 euro, che corrispondono a ciò che un migrante in Italia riceve ogni giorno per pagare l'extra, quindi non il vitto, non il cibo, ma l'extra. Impressionante vedere come il linguaggio del teatro e della danza unisca culture veramente molto diverse, le più disparate, perché i ragazzi erano una ventina, veramente di 20 paesi diversi, però è molto bello perché credo che sia un esercizio di cittadinanza che aiuti sicuramente loro, ma aiuta moltissimo anche noi, noi, dico noi, noi spettatori anche, perché capire che il mondo appunto è molto più variegato, diverso, intriso di culture che ancora non conosciamo di quanto immaginiamo, credo che sia un esercizio davvero salutare per tutti noi. Questo progetto venga presentato al termine di quest'anno in cui la nostra cooperativa insieme alle istituzioni del territorio ha celebrato dieci anni di attività, di accoglienza ai migranti e con un progetto di questo tipo, al termine di una serie di eventi che avevano già comunque una valenza culturale molto importante, ha dimostrazione di una modalità di inserimento della persona migrante a 360 gradi, completa, fino a partecipare anche alle attività culturali della città, di una città come quella di Pesaro che ne è ricchissima.